ciao ragazzi sono steve christian pro e oggi ci troviamo in questo nuovissimo video di brawl market oggi creeremo una mappa super crash bug cioè una mappa tuta di istruzione quindi vorrei proprio cioè prima di fare questo video l'ho fatta e ho provato e ho detto questa la devo fare proprio nel video perché è troppo bella da devo provare e voglio condividerla con voi siamo in compagnia con alex gabriele pro che mi vedrà che vedrà anche questo video ok adesso sta caricando visto che sono tipo 60 per 60 blocchi sono tantissimi ok allora voglio tipo creare tipo un piccola vasta io gioco con il mio telefono tu puoi anche andare che non serve a niente che registri con me vediamo come la potremmo fare le posso mettere tipo così cioè è come raga come che siamo tipo cinquanta c'è tantissimi giocatori però mi raga mi si sta crescendo ok mi si sta crescendo no 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 modifichiamo ok raga ora basta solo metterci i bot cioè li mettiamo tutti a casaccio ok no così 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 ne mancano ancora qua così così ok mettiamo i teschi raga io non vedo nulla è cioè io non capisco neanche cosa sto facendo mettiamo tipo così 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 ok le ho messi tutti vabbè tanto poi si rispardono crash ok ci giochiamo via raga siamo pronti a parte che non gli ho dato neanche la mappa il nome della mappa ma fa niente mettiamo baril via ok ma poi non è che la facciamo ancora più piccola no dopo la raga la facciamo ancora più piccola ok via ok super crash bug via guardate la vita del boss mamma mia e poi quanto danno sto prendendo io muoio subito c'è poi ancora mamma mia si sta spaccando tutta mamma mia ok c'è c'è un bull è tutto nascosto vai mamma mia ma ma la buce è meglio che ma il boss non può mettere lo scudo cioè se no ok meno male che l'ha messo se no la partita finisce subito ma voglio prendere le gemme no se n'è andato guardate come scappa voglio prendere le gemme e gemme vado a prendere gabi e se riesco è se riesco le vado a prendere non è tanto semplice quattro secondi ma chi se ne frega se poi perdo con il boss tanto basta che prendo le gemme tipo come questo ok no leone guarda che forte vabbè l'ucciso perfetto ok è andato che ma mi ha ucciso in un colpo ma non ho visto neanche conto danno mio c'è sembra un treno oddio la mappa si sta per distruggere tutta e si ciutte mi fa 5824 per pallotto la bull ma pensa con 99 gemme pensate c'è dopo vi faccio vedere una mappa con lo stesso che avevo fatto si chiama macello totale il nome più bello che gli posso dare una mappa brul sì ma io non c'è io non voglio che la mappa finisce subito ma cosa sparano questi devono sparare il boss 50 gemme c'ha quella mamma mia ma il boss non prende le gemme no non le prende ok se sei ancora immune alle ste casse di legno aia mi fa un botto male o muori aia no fa un sacco di danno vabbè a parte che io ho tipo la vita di di frank no ora anche di più il doppio triplo quadruplo fermo la super bu 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 muori almeno di vino ecco qua finito prossima la facciamo ancora più piccola ma raga secondo me così va meglio ok ancora più piccola ok raga ora l'ho fatta ancora più piccola di prima ed è così dopo la raga la faremo ancora più piccola di prima è è sempre più piccola più piccola fino a un blocchino con 100 giocatori ok guardate quanti quanti botti ho messo mi sembra 12 botti non lo so mamma mia con te crashato guardate la vita del boss sediamo 72 mamma mia e poi dopo la facciamo ancora più piccola tutti che si sparano si spaccano ma non voglio io c'è io voglio solo che si distrugge tutto che bello guarda guarda che belli tutto che si distrugge rompe ok scudo mamma mia guardate tutti qua tutta la distruzione ma perché ho deciso di mettere baril dopo cambio brawler no perché baril è migliore con questo con questa partita dopo magari metto bull no no meglio baril ok cresciamo tutto guardate come quanto arriva mamma mia devo devo me ne devo andare non riesco neanche usarla super via guardate la vita del boss poi ok meno male che si è così ok muori morite tutti quanti aia no 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 e si vabbè muoio muoio in aria io cioè prima mi fanno volare poi muoio bella roba ok uccidiamo un po di bot tanto non fanno niente voglio che distruggono non che colpiscono io uso il gadget e muoio perfetto lo stesso danno che ho fatto con il gadget me lo sono ricevuto in faccia bellissimo ok via devo sopravvivere una sopravvivenza a nostro proposito di sopravvivenza perché non facciamo dopo una sopravvivenza così cioè vediamo chi sopravvivenza per primo io come 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 proprio oh mint 25 per cento siamo 20 19 18 17 17 siamo 17 16 qui oh mamma mia il boss cioè è come che quando arriva a zero finisce la partita cioè siamo al 6 per cento della partita 5 4 3 2 1 e via abbiamo vinto prossima la facciamo ancora più piccola di così la facciamo ancora più piccola no dai la facciamo dopo ancora più piccola ok l'ho fatta ancora più piccola no basta più di così c'è crasha tutto via ora si spaccano tutti ecco guarda guarda mamma mia e sì ma io non ma io moio subito se siamo già 80 per cento al boss 79 non voglio colpire il boss ma quanto danno mi fanno sono sempre in comune c'è immune mamma mia me ne devo scappare aaa morite è bellissimo c'è più bello di così come lo faccio a fare anno dopo la facciamo ancora più piccola e poi la mappa l'ho fatta anche gigante non serviva neanche mamma mia tutto immune sto facendo sempre immune 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 no in realtà sono niente sto solo morendo a parte che immune ok 60 per cento 5 e finisce la partita guarda sembra c'è le percentuali sono i secondi 48 47 40 ok solo quando ho già lo scudo appena finisce il conto al revesce sono i secondi 46 mamma mia ma quanto danno mi fanno ho fatto 8 mila di danno tutti insieme e mamma mia 50 ho visto uno con uno di vita mi sono sbagliato non lo so visto uno con pochissima vita mi ha capitato di avere uno di vita a me tre volte però mi hanno ucciso non mi sono riuscito a salvare solo con uno però mi sa vabbè a chi se ne frega ok andiamo a distruggere il boss sì ma vabbè ma qua ma tra poco questo blocchino di ferro si rompe questo questo materiale è duro come la bedrock di minecraft e vabbè ma quanto danno mi fanno e sì c'è ogni secondo c'è una kill ogni secondo è non c'è mai un secondo con una kill o sono primo no sono secondo no adesso arrivo terzo ma vabbè ho vinto perso chi se ne frega tanto tanto parli e sì ok sono primo aia ma quanto male mi fanno ma dov'è che spannano le gemme poi a non li devo mettere io ok adesso la facciamo ancora più piccola di prima raga allora ancora più piccola ancora c'è come faccio metto mettere proprio i botti tutti incastrati ok ora lo pixeliamo e non funziona così così ok più piccola di così raga raga io non vedo neanche un player c'è proprio a vedere bene non vedo niente niente vedo vabbè non vedo non vedo io c'è proprio solo il boss vedo e vabbè raga ma chi via brawl via guardate la vita del boss e vabbè tutti in comune immune siamo e vabbè ha vinto il boss si era in sopravvivenza e poi la bolla sta distruggendo tutti spannano tutti si alla guerra guardate la vita del boss poi tutti immune siamo e vabbè ma quanto danno mi stanno facendo c'è io vado in guerra e vince sempre il boss 40 per cento meno male che ha messo lo scudo via vabbè dai e vabbè abbiamo perso sono sempre immune un sacco di scritti immune ecco mi sto qui aia aia il boss sta facendo la bua tutti se guardate mamma mia guarda adesso arrivo dentro sono sempre immune guardate tutte le scritte immune c'è 30 secondi no 20 se mancano 10 secondi di 7 ok ha messo la morite 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 ok la facciamo ancora più piccola cioè mi accontento ancora di più dopo la facciamo in sopravvivenza nella modalità sopravvivenza questo video riguardatelo se lo volete iniziate a condividerlo questo video che è molto bello guarda la bolla pum 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 no mi si è crashato cambiamo evento mettiamo sopravvivenza oh guardate c'è un piccolo pallino ora mettiamo da un sacco di bot si ho messo la puzzangra d'acqua allora vediamo qual è il centro non mi dice niente ma no che raga sta crescendo tantissimo vabbè taglio il video raga mettiamo ancora più bot cioè guardate quanti sono e guardate come crasha mizga non messi troppi di bot ok vediamo chi vince ok ma un attimo ma questo l'avevo messo non me lo ricordo ma proviamo perché non messi tantissimi di bot si non messi troppi non messi troppi quanti volte sono 12 via e si guardate con tutti quei camminano usare il gadget un po e muoio subito e finisce la partita aspetta riproviamo ok riproviamo ma io dove vado poi che si crasha tutto meglio andare qua in cima ok stare fermi e guardate quanto danno prendo wow nessuno zero ma poi in un secondo tutti pu morti cioè dopo riguardate la parte dove dove tutti erano morti c'è un secondo tutti morti ma tutti immune siamo via da che vinco raga corse costa vinco muori ecco vinto che bello ho fatto anche la giratoia quello del gadget ho vinto che bello ok via riproviamo un'altra volta mamma mia che paura a mamma mia che danno mi fanno eh no ha vinto jacky via riproviamo intanto che facciamo quest'altra partita e per questo vi definito ricordatevi darmi un bel mi piace iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto condividete il mio canale con i vostri amici e noi ci possiamo vedere la prossima volta ciao ciao forse vi state domandando perché lo speciale 500 iscritti non esce sì ciao iscrivetevi eh gabri stavo parlando io eh vabbè vi farò anche vedere un'altra cosa se andate sul mio canale andate sulla pagina informazioni vedete qua sotto dei link c'è instagram qui c'è per fan fan si che stiamo whatsapp che è un gruppo di whatsapp con tante persone poi c'è class rom pro e mittepro che class rom pro se volete entrate però mittepro alcune volte faccio delle piccole video lezioni con dei miei amici se volete entrare entrate però dovete avere fortuna se ci sono no perché c'è l'invito quindi provate di tutti quanti noi ci possiamo vedere la prossima volta ciao ciao